c'era una volta una bambina che non poteva uscire di casa l'unico modo che aveva escogitato per assaporare il mondo era aprire la finestra puntualmente appena spuntava la luna lei si affacciava finché una sera dal cornicione salì un buffissimo gattino bianco da allora viaggiano insieme alla scoperta di nuovi mondi insieme alla scoperta di nuovo 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 insieme alla scoperta di nuovo